Grazie a tutti. Ricordatevi dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito dei loro. Ricordatevi dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Ricordatevi dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Ricordatevi dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Ricordatevi dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Ricordatevi dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito dei porti dedicati, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.